Siamo in prossimità del Natale e quindi è tempo per me, per la nostra amministrazione di rivolgere a tutti i cittadini e le cittadine di Iesi i migliori auguri di buone feste e di un sereno anno nuovo. La felicità è un dono prezioso che non dobbiamo mai dare per scontato e quindi rivolgo a voi gli auguri per questo Natale e per l'anno nuovo che sta per entrare pensando proprio alla felicità. Vi auguro di essere felici a tutti e a tutte.